E continuiamo questa caratteristica di premi, Clementina Petroni, direttamente da Posti Belli, a questo altro lato, questa è la elettrice annicetti per l'apporto del premio, abbiamo adorato, chiediamo a Lucia, l'amico, di premiare a Clementina Petroni, si dice con l'apporto del premio, donna impegnata in cultura e in tanti attività, premio, una poetessa, Clementina Petroni, grazie, grazie Lucia, un'altra parola, un'altra parola, un'altra parola, da un po' di tempo, mi sarebbe dato piaciuto continuare, perché è la preghiera, è l'emozione dell'arma, quindi gli ospiteranti sarebbe bello incontrarci molto più spesso, Bruno, perché si fa bene quando c'è la preghiera di mezzo, quindi, beh, colgo l'occasione proprio in questo momento, visto che non ci vediamo da tempo, di poterci ancora incontrare da qualche parte, anche qua alla biblioteca comunale, da qualche altra parte, per stare insieme, per raccontare anche, per raccontare, declamare poetiche, per stare in maniera di emozionarci, perché l'emozione ci serve tantissimo in questo momento in particolare, grazie. Grazie Lucia.